Ciao, sono Luca Parenti, coordinatore del corso in Fashion Design e Styling e docente di cultura tessile presso IED Firenze. Il corso biennale in Fashion Design e Styling, erogato in fascia serale, prepara una figura professionale per il campo della moda che va dalla progettazione di una collezione fino alla sua valorizzazione attraverso lo styling. Nel primo anno di corso si apprendono tutte le basi e tutti i fondamenti per la corretta valorizzazione e realizzazione di una collezione. Si parte dai materiali, dalle materie prime, quindi si studia la cultura tessile, il disegno per la moda, si imparano a disegnare i figurini e i plat, si passa poi alla realizzazione della propria collezione attraverso il cartamodello e quindi la modellistica, dopodiché si passa alla sartoria. Alla fine del primo anno si valorizza la collezione attraverso lo studio dello styling. Nel secondo anno di corso si approfondiranno gli studi sulla modellistica, occupandoci principalmente di capispalla, si approfondirà il disegno per la moda, il drappeggio e l'ultima parte dell'anno sarà dedicato alla progettazione di una collezione completa. Completano il secondo anno di corso lo styling e il photoshooting di collezione. Inoltre con il corso di Adop Portfolio si imparano tutte le tecniche digitali di colorazione dei figurini, realizzazione dei plat e di impaginazione professionale dei propri progetti. La metodologia didattica affianca lezioni di teoria a lezioni di pratica, quindi tutto ciò che viene spiegato dai docenti poi viene fisicamente applicato. Il percorso così prende corpo e ciò che viene studiato viene immediatamente applicato su un lavoro concreto. Il corso Biennale in Fashion Design e Styling si avvale di moltissimi partner, sia tessitori che aziende di moda, che seguono in molti progetti gli studenti e quindi lo studente sarà chiamato a realizzare delle vere e proprie collezioni per aziende e quindi la sua professionalità sarà subito testata nel mondo del lavoro. Alla fine del corso gli studenti saranno chiamati a produrre un final work, questa progettazione sarà legata alla partnership con un'azienda, quindi gli studenti saranno chiamati a progettare e realizzare un'intera collezione per l'azienda partner. Studiare moda nel corso biennale in fascia serale offre l'opportunità a tutti, anche a chi già lavora, di poter approfondire le conoscenze in questo campo.